Giornata epica, neve a bustarsizio, adesso vediamo un po', cerchiamo di fare un'inquadratura abbastanza buona, buona, ok. Neve abbastanza fitta, bella da vedere. Adesso vado ad un'altra persona per il mio lavoro, faccio mandare questo signore qua, quanto mi piace la neve ragazzi. Yeah, andiamo. Massima prudenza, beh a parte che ho solo le gomme da neve quindi posso stare tranquillo, però la prudenza non è mai troppa. Crociamo un signore molto temerario sotto la neve naturalmente. Wow. Allora, la temperatura è ancora zero gradi, sono le 9-19 del mattino e va bene, va bene, va bene. Scaldiamo la macchina, comunque è bella freddina dentro. La mia, sta tuossi. si riparte la neve va giù in diagonale perché c'è un po' di venticello tipo una mini bufera di neve va bene ma calpe con tutti i rossi i semafori oggi ci picchia oh la la si riparte wow 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 Piano piano arriverò a destinazione con la nostra potenza Oh la la. Ok. Abbiamo un po'. Troppo bello quando nevica, mamma mia. Uno spettacolo. Eh, tra neanche meno di due settimane è già Natale, quindi è già un antipasto del Natale, questa nevicata. Sono quasi arrivato. Ok. Mamma mia. Massima prudenza. Adesso vediamo se troviamo parcheggio. E qua in zona San Michele si fa una fatica boia. Trova il parcheggio, però... Una bella zona del centro di Bustarsizio. Zona storica. Sono tutto pieno, finalmente. Devo andare dentro del parcheggio grosso. E qui c'è la gara a chi trova il primo al parcheggio. Allora, andiamo un po' qua. C'è un signore molto temerario che è lì che mi guarda. Allora... Ah, va che bel parcheggetto piccolino che c'è qua. Quasi me la metto qua dentro. Beh... È più comodo... Piano piano piano... Piano piano piano... Piano piano piano... E voilà! Arrivata a destinazione. Ciao ciao a tutti!